Antonio Aliano non si pente. Dopo le dichiarazioni di Forza Italia sul gesto compiuto dal rappresentante di Montesilvano, quello che lo aveva visto prendere a Ceffone un romeno che gli avrebbe preso a calci la macchina, si erano scatenate le polemiche. Antonio Razzi aveva chiesto le sue dimissioni, Lorenzo Sospiri aveva condannato il gesto ma ha chiesto di dedicare più attenzione alla sicurezza cittadina. E nel frattempo, dice Aliano, quel gesto lo rifarei e per quel gesto tanti utenti di Facebook hanno espresso un bel mi piace. Una volta tanto hanno perso l'occasione per tacere, in realtà si è trattato di un alterco, nulla di più, se avessero chiesto al diretto interessato avrebbero capito che probabilmente a ricevere le scuse dovevo essere io e non l'ambasciata rumena né tantomeno il rumeno che mi ha aggredito. Oltre ai cittadini, dice Aliano, sono stato contattato da televisioni e giornalisti romeni che mi hanno espresso la loro solidarietà. Devo dire che ho ricevuto il conforto anche di molti cittadini rumeni e di giornalisti rumeni i quali mi dicono che purtroppo per quattro balordi noi subiamo le conseguenze di una onta che ci involge necessariamente. Resta dunque una frattura tra chi legge il gesto del forzista come una reazione a una sopraffazione fisica e chi invece richiama sempre il principio del buonsenso e della non violenza. Io ho ricevuto migliaia e migliaia di messaggi di conforto e solidarietà a fronte di 4-5 politicanti di mestiere che hanno pensato di cavalcare un'onda sbagliata completamente per poi ricevere gli insulti di tutte queste migliaia di persone che mi hanno manifestato di aver espresso un giudizio che è in realtà il giudizio di tutti gli italiani o quasi.